Diamo all'importanza della differenza del pugno dell'out key con il short kite e la sua connessione con il push-off. Normalmente un out key è dato in questo modo in moltissimi superficiari. Il short kite lavora sull'emergenza quindi non si ferma di proseguire oltre il porto. Questo è uno dei concetti familiari del push-off. Inoltre ci applichiamo altri principi quali la mano rimane fino alla fine. I principi del short kite si sposano con il push-off. Questo raccoglie e questo restituisce. Ora facciamo il whisky normale. push-off. Shot kite. Ok, la differenza fondamentale è che l'energia passa, non è solo la forza fisica. La differenza fondamentale. La nostra energia viene trasmessa, utilizzando la sua, all'interno del supporto e questo dà l'effetto moltiplicato. Ok? Ok. Ok.